Italia 7 e Radio Bruno, media partner dell'evento VIP Village Formula 1 a Villa Senni con lo staff tecnico Ferrari che seguirà una tre giorni storica. Deborah Bianchi, responsabile per la relazione esterna, ci spiega un pochino quali sono gli eventi, intanto abbiamo visto l'equitazione stasera, ma insomma tanti eventi. Tanti eventi ci accompagneranno per queste quattro serate, l'idea è nata da una partnership con il nostro main sponsor che è Fresco Baldi, che ci ha dato la disponibilità di una location così prestigiosa qui a Villa Senni. Ci sarà una serata di gala in una location bellissima che è il ristorante delle loggie e il piazzale Michelangelo. È una festa penso per tutto il Mugello, per tutto quello che poi è, da questo punto di vista, un territorio che è legato industriabilmente con Firenze, la città metropolitana, ma allo stesso tempo un rilancio per tutta la regione. Quindi effettivamente col Covid, nelle difficoltà, però c'è stata l'opportunità di cogliere questa occasione per dare anche quell'idea, quella volontà di rilancio necessario e anche di speranza del futuro. E poi sarà anche un gran premio che per la prima volta vedrà il pubblico, logicamente con tutte le precauzioni, le tutele del caso, però anche per questo ha una sua storicità, perché post-Covid sarà il primo evento internazionale a livello mondiale che vedrà la presenza di pubblico. Non nasconde il suo rammareco per la stagione sportiva il giornalista Giovanni Di Pillo. I regolamenti attuali della Formula 1, ma anche della MotoGP, non permettono di variare i motori che vengono omologati nel primo gran premio, neanche il telaio e l'aerodinamica. Quindi, ragazzi, c'è poco da fare. Sarà una stagione tremenda. Ma anche se la stagione è compromessa, rimarrà il valore immenso di questo evento che sarà comunque un successo anche per Francesca Prini, campionessa di pole dance e reduce da una finale di Sgo Talent. Una disciplina intanto molto completa e anche molto complessa perché comunque richiede forza, richiede flessibilità, un sacco di ore di allenamento al giorno. Un evento qui questa sera per ricordare il tuo millesimo gran premio. Sì, infatti ho messo anche il completino per fare l'esibizione rosso, proprio in onore della Ferrari. Quel colore rosso della passione che andrà in pista il 13 settembre e che segna la ricorrenza anche di un'altra gloria nazionale, quella del sommo poeta Dante Alighieri, di cui si festeggerà il 13 settembre 2021 il settimo centenario dalla morte.